Radio 1 presenta Canta Napoli, vetrina dell'archivio storico della canzone napoletana. Buonanotte amici ascoltatori e bentornati qui a Canta Napoli nell'archivio storico della canzone napoletana. Questa è una notte tutta jazz perché i nostri amici dell'orchestra napoletana di jazz hanno prodotto un nuovo CD, ma soprattutto visto che non l'abbiamo fatto in tempo reale a seguire quella che è stata la loro estate, abbiamo qui questa notte con noi Onofrio Piccolo che è il produttore dell'orchestra napoletana di jazz, che ci racconterà questa estate particolarmente bella, o forse un'estate brava, quella dell'orchestra napoletana di jazz. Come è andata Onofrio? Buonanotte a tutti innanzitutto. Devo dire che siamo molto soddisfatti perché quest'anno abbiamo ospitato, nel nostro concerto all'interno del festival di jazz di Pomigliano, un pezzo di storia del jazz internazionale, Archie Schepp, che si è confrontato anche con la musica napoletana e quindi devo dire che siamo molto soddisfatti da questo incontro e lo stesso Archie scendendo dal palco, la prima cosa che mi ha detto, quando lo rifacciamo ero molto contento, si è creata un'atmosfera molto bella, noi ne eramo consapevoli, diciamo, ma è sempre bello vedere che poi le cose si realizzano con grande passione e intensità. Archie ha voluto provare, riprovare, insomma, gli è piaciuto partecipare a un progetto particolare su musica che tra l'altro lui in qualche modo in parte conosceva perché viene da una parte degli Stati Uniti d'America in cui anche i suoi vicini italo-americani ascoltavano tante canzoni napoletane e lui nel suo percorso di studi spesso ha detto che ha anche incontrato la musica napoletana. Infatti Archie Schepp è già nel nostro archivio storico della canzone napoletana con una versione di Torna al Surriento registrata al Festival Jazz di Ischia nel 2008, raccontava Archie che appunto a Filadelfia c'era una forte comunità italo-americana e come tale quella canzone lui la cantava pure e Torna al Surriento è fra i brani che l'orchestra napoletana di jazz ha suonato quest'anno al Parco delle Acque di Pomigliano in una versione del Festival itinerante che ha toccato ben otto comuni della campagna. Il disco che esce per l'itinera, l'etichetta del Festival di Pomigliano che quest'anno Pachito ha festeggiato il suo diciottesimo compleanno è diventato Maggiorenne, che in terra dell'effimero è veramente tanto l'ONJ, l'orchestra napoletana di jazz diretta da Mario Raia in questo disco che si intitola In Concerto è un'orchestra napoletana di jazz napoletano nel senso che l'intero repertorio affrontato a differenza della sera di Archie Schepp dove c'erano dei classici del suo repertorio degli standard ed altre cose. Questa volta è tutto il repertorio napoletano di ieri, di oggi, come diciamo noi probabilmente anche di domani. Io inizierei ad ascoltare qualcosa partendo da un Lazzari Felici di Pino Daniele le registrazioni sono a cavallo fra il 2008 e il 2011 con varie formazioni dell'orchestra, quindi è difficile dirvele tutte ci sono i solisti e i soldati e i fanti del jazz campano e ogni tanto sentiremo delle voci, ospiti ma la cosa più interessante dell'orchestra è proprio nel tentativo di trovare una tessitura gezzistica coniugata con le nostre radici iniziamo da qua, Lazzari Felici, Pino Daniele, l'orchestra napoletana di jazz iniziamo da qua, Lazzari Felici iniziamo da qua 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 Perché noi siamo convinti che poi questa musica, con questa chiave, con questo repertorio unico e con questo tipo di musicisti possa avere una sua chiave di lettura anche nazionale e internazionale e quindi avere un suo pubblico, un suo mercato. E' giusto che questa orchestra, dal nostro punto di vista, viaggi più fuori dalla campagna che suoni in campagna perché promuove un repertorio unico anche, come dicevi tu prima, con una ricerca di suono e di equilibrio tra quello che è il jazz e il linguaggio internazionale ma anche il rispetto della tradizione napoletana. Allora io noterei un paio di cose, l'una che appunto abbiamo cominciato con un brano addirittura del 2008, quella volta non era pomigliano ma era a Ischia, lo stesso festival di Arci, l'altra che appunto in questo panorama che prima genericamente Federico definiva di ieri, di oggi e di domani, invece vedo una composizione particolarmente strana. Come storico dove la canzone incuriosisce è praticamente il meglio del repertorio contemporaneo più un anticipatore, Raffaele Viviani che appunto sappiamo tutti era un'autodidatta come compositore che però evidentemente aveva già nelle sue vene dell'innovazione che è stata poi raccolta dai jazzisti. Sì, Viviani in realtà è stato uno dei musicisti su cui abbiamo cominciato a lavorare, a costruire questo legame proprio tra modernità e tradizione. Forse lui la interpretava già nelle sue composizioni che erano molto scarne, molto essenziali ma molto, come dire, anche molto efficaci. Su quello è stato possibile costruire un lavoro nuovo, ex novo, forse anche perché sui classici è anche sempre più difficile operare, è sempre più difficile metterci le mani. Su questi pezzi che invece avevano una loro forza ma anche una loro semplicità è stato possibile ricostruire un lavoro anche più particolare, più originale. In realtà l'attenzione a Viviani è dettata anche dalla presenza in chiave stabile o di ospiti di alcuni musicisti che su Viviani in chiave jazz hanno lavorato in passato e non è un caso poi che il jazz per esempio si sia applicato più a Viviani che a Edoardo. Penso a Marco Zurzolo, penso a Maria Pia De Vito, tutte e due nel disco. Non è un caso che l'inizio del disco, che è il preludio di Pulcinella più civile dell'animale, sia un brano da un spettacolo inedito, mai finito, di Viviani, portato in scena per la prima volta da Mario Martone con musica di Daniele Sepe, che con l'orchestra ancora non si è incrociato, però insomma ci starebbe bene. Il problema che ci siamo posti più volte, Pachito, è perché era De Maggio, canzone melodicamente perfetta, non si è mai diventata uno standard. Perché uno possa mettere mano a una cosa del genere, di cui pure non mancano da noi in archivio tante versioni jazz, ci vuole tempo. È più facile per i musicisti contemporanei trovare il giusto mood per una canzone che ha già qualche anno come Lazzari Felici, oppure per uno degli ultimi hit neupolitani, uno dei classici moderni, ormai ne abbiamo noi soltanto in archivio una ventina di versioni, questa è la prima dichiaratamente jazz, Nunt Scurda, l'orchestra napoletana di jazz, alle prese con gli Alma Magretta. Nunt Scurda, l'orchestra napoletana di jazz, alle prese con gli Alma Magretta. Nunt Scurda, l'orchestra napoletana di jazz, alle prese con gli Alma Magretta. Nunt Scurda, l'orchestra napoletana di jazz, alle prese con gli Alma Magretta. Novi ammazzate che ho girato sulla mente perché il femmino sono stato, a nuca te ne ha giocato, non me lo ha già mai inserrato sulla mente perché il femmino si è stato, sulla mente è fermo mio. Quando il figlio chiamava l'amore, il figlio che nasce in vita che mai si è in amore, il compagno parlavena zitta questa cosa scurnosa, a nuca femmino fa solo la mente un momento che si posa, eppure si si posa senza un'estate mai, sai che come mo' lo sanno, io che rispato la porta assai, quando il figlio chiamava l'amore, quando il figlio è rile, io che si è in amore, non mi dici curta, 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 ma che oggi non ho cambiato non ho scoperto ma Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.